Ciao ragazzi, ho appena comprato questo pesce rosso, adesso lo metteremo dentro quest'acquario Sì, c'è già della sabbia e un po' d'acqua perché mi sono portato avanti coi lavori Ugo, cosa stai facendo? Bravo bimbo! Attacchiamo le prese Uno, due e tre Vediamo se la luce funziona Adesso prenderò l'acqua dall'altro acquario, quindi c'è pronta per ospitare i pesci Finito, l'acqua è ancora un po' sporca Ma è normale perché la sabbia si è mossa, sarà pronta domani mattina Adesso lo decoriamo Guardate che bella pietra per acquari che ho comprato Metteremo il centro dell'acquario Guardate che bella È arrivato il momento di mettere il nostro pesciolone Guardate raga, ha fatto la cacca Prima non c'era, mi sa che ha molta paura Tranquillo piccolo, adesso andrai a casa Tre, due, uno Ragazzi guardate com'è contento L'acquario è ancora un po' sporco, ma domani mattina sarà puritissimo Ve lo farò vedere